Nel 1954, nella necropoli aretina in località Pino di Saione, datata tra età ellenistica e tardo-imperiale, fu rinvenuta in una tomba a pozzetto un'urna in travertino con corredo. L'urna presenta una doppia iscrizione in latino e in etrusco. Il corredo, composto da vasellame da mensa e per contenere liquidi, oltre che strigili di bronzo, è datato verso il 10 a.C. circa. Nella formula latina troviamo il prenome, dove cn sta per gneus, il gentilizio laberius, e la filiazione af sta per aulifilius, cioè figlio di aulo, a cui si possono aggiungere la tribù romana a cui la città di Arezzo fu assegnata, pom, che sta per pomptina. Può inoltre esserci il cognome, non attestato nella nostra iscrizione. Nella formula etrusca troviamo il prenome in forma abbreviata, un A che sta probabilmente per Arnth, il gentilizio haprni, la filiazione paterna, dove anche in questo caso la singola A è iniziale del padre, e quella materna, dove acratinalisa significa quello di acratinei. In acratinalisa il safinale è un pronome che sottintende la parola clan, cioè figlio, marcando così la discendenza. La presenza della tribù romana a cui la comunità di Arezzo fu designata nella formula latina è indizio di un'ufficialità che la formula etrusca non mostra. Notiamo inoltre come non vi sia parallelo onomastico tra l'Arnth haprni etrusco e la sua identità come cittadino romano, cioè gneus laberius.